E dopo aver installato Windows Vista dentro Windows 7, dentro Windows 8.1, dentro Windows 16, dentro Windows 11 non potevamo non fare la stessa identica cosa ma con Linux Siamo qui su Endeware OS e andremo a provare ad installare Linux Mint dentro Ubuntu, dentro PopOS, dentro Endeware Iniziamo subito Il software che andiamo a usare oggi non è VMware, più che altro perché con le ultime versioni del kernel Linux dà un bel po' di problemi ma è Kimu KVM con Viet Manager E' un po' più complicato ma sicuramente per cosi che richiedono tanta CPU è sicuramente migliore Quindi andiamo a creare una nuova macchina virtuale Se c'è un supporto di installazione locale, immagini ISO CD-ROM Sfoglia Prendiamo la ISO di PopOS 21.10, apri Non ha trovato il sistema, la andiamo a mettere noi C'era 20.10, ce la facciamo andare bene, ok Io direi 12x1024, 12GB di RAM Le core facciamo sempre 12, avanti 150GB, avanti Abbiamo le maiuscole giuste Fine Non può contenere il carattere Ah, vabbè Non posso mettere gli spazi E qua già si sta avviando Quindi andiamo a prendere Italiano Select Italiana Italiano US Seleziona Clean install Clean install Device ha blocchi virtuale Cancello install Andiamo a mettere qui Next Password super sicura Non è in criptare Ci vediamo quando è finito Ok Riavvia il dispositivo E Riavviamo appunto la nostra bellissima macchina virtuale Vabbè forza Settiamolo Sì sì Fiumicino Sono a Fiumicino Lo giuro Inizio a usare PopOS Ora una cosa che ho notato è che Non c'è l'autoridimensionamento Perlomeno su PopOS Quindi mettiamola a mano Dopodiché facciamo Dimensione a schermo Sempre Così E prima cosa che dobbiamo vedere è se la virtualizzazione è attiva In teoria no Comunque dobbiamo fare un comando Che sto prendendo qui dalla documentazione di Ubuntu Regrep Trattino c Vmx svm Slash rock Slash cpunfo È spuntato 0 E quindi se è spuntato 0 vuol dire che non abbiamo la virtualizzazione attiva È normale Quindi spegniamo un attimo la macchina virtuale Andiamo su cp XML E cambiamo da host model a host pass Draw Questo invece secondo la documentazione di Fedora Ho provato ed effettivamente funziona Sfrutti Scrive così THRO UGH Quindi applichiamo E già che ci siamo attiviamo anche la condivisione della cartella Per passare la ISO Quindi dobbiamo andare su Aggiungi hardware File system Mount Andiamo a prendere il percorso sorgente Che è questa cartella Share che ho qui Apri Per questo istituzione diciamo Slash share point Fine E stavolta avviamo la macchina virtuale Quindi Rifacciamo il comando di prima E continuiamo ad andare Ho sbagliato qualcosa E poteva mai andare Se io sbaglio a scrivere E infatti adesso fa 12 Che è il numero di core che ho dato Ok 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 va bene Se sbaglio a scrivere Non poteva mai andare Adesso che l'abbiamo fatto Dobbiamo montare Il coso Vabbè Studio MK di share Mount T9P O Trans Uguale Virtue Ok Quindi se io vado su Faccio CD Slash share Nautilus Ok Andiamo da ISO di Ubuntu Quindi adesso andiamo a fare Andiamoci da qua Dalla VM Install Kim Manager Ubuntu Perché sono un paio di comandi Non me li ricordo a memoria Cerchiamoli da qua Per essere sicuri Ok quindi andiamo a copiare Questo comando Cosa che doveste sempre fare Copiate i comandi Con sudo Dall'internet Sì DS266 Ora lo installa un bel po' di robe Poi dobbiamo fare Sudo Aduser Youngtech Lip Virt Faccio parte del gruppo Lip Virt E poi mi sembra che era KVM Esatto Adesso installiamo anche Virtmanager Riavviamo un secondo La macchina virtuale Perché l'altra volta L'ultima volta che ci ho provato Non andava finché Neri avvi Andiamo qua Virtual Machine Manager Ok Creiamola Andiamo a prendere la ISO Che è appunto su Share Eccola qua Apri A .2104 Ce la facciamo andare bene 8192 Facciamo 8 core Ma anche 10 dai Facciamo 10240 Avanti Vediamo 130 gigalibri Facciamo 125 Vai Fine Ok quindi Italiano Installa Ubuntu Vai 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 Non ti bloccare Ok Installa Avanti Yauntex Si yauntex Standard Su tutto Va bene Passo Deco Tasticare Avanti E ci vediamo Quando è finito Distanzione è considerata Completata Riavviamo E andiamo su Obonto Anche qui andiamo a mettere Una risoluzione Magari non 1080 Che serve Tappo basso Ce l'abbiamo tipo 720 Si Wow C'è il Scriviamo sempre A posto C'è il mouse Col Parkinson Andiamo a fare Quello che abbiamo fatto Primo Ovvero installare Allora in realtà Prima di installare Kimio KVM Devo effettivamente Rifare CPU XML Devo attivare La modifica Dell'XML Esatto Host Applica Qua vai Player Quindi andiamo qua Andiamo ad abilitare Kimio E vediamo se riusciamo a installare Mint Intanto controlliamo sempre con questo comando 10 è a posto Quindi è giusto Installiamo queste robe Incolla No non installare Annulla Annulla Comunque è bello Yontek 1 standard PC Q35 Hitch 9 2009 Fermo al 99% Ok Quindi di nuovo Trude User Yontek Lib Virt E installiamo Virt Manager Ok quindi Come prima riavviamo Perché non si sa mai No sospè Dobbiamo fare prima però Le cartelle condivise Quindi Di soltanto dobbiamo Arrestare Gingi hardware File system Mount Per questo soggete Così Dobbiamo Quindi Dobbiamo andare nel Terminale E scrivere Quindi Se io vado su Avanti Sfoglia 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 il locale Altre posizioni Computer Share Linux Mint Facciamo Ubuntu A sto punto 8192 8 Avanti 100 Fine E facciamola installare Permesso negato Mmm Vabbè facciamo una cosa molto semplice Che è andare qua Prendiamo questa ISO Copia Immagini La voglio su immagini Io Ok quindi Sfoglia Sfoglia il locale Immagini Prendiamo questa Avanti Non di bloccare Non esplodere Correggio il problema Di permessi Rimettiamo No 78 core Magari non ce li ho Ecco diciamo Rimettiamo 100 Avanti Mint Fine Ce vedo assai io Un sacco bene Ok allora Install Linux Mint Se cari Ah Sta ancora caricando Scusi Ero convinto Che Stisse Lavorando Si è Buggato tutto Oh Ho fatto qualcosa Ha aperto un menu Wow Ma il problema è che è morto Ubuntu Non è morto Mint Aspettate Restartiamo da questa Forza riavvio Sì Riscriviamo il comando Rivediamo Mint Allora Mo funziona Quindi se faccio install Linux Mint La non ce sta In teoria Dove bandare Italiano Avanti Italian US Avanti Non è stato adesso un codice multimediale Avanti Installa Avanti 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 Vabbè non lo dico più Ok Allora Abbiamo qua finalmente Linux Mint Si è installato Funziona Ora Siamo più o meno Sto riflettendo Allo stesso livello A cui eravamo Con Windows Perché Endeware è come fosse 11 Pop è come fosse 10 Ubuntu è come fosse 8.1 Quindi Mint è come fosse 7 Da 7 a vista Non ci siamo riusciti Di andare Quindi adesso So che in teoria Qua abbiamo finito Secondo il mio obiettivo Ma voglio andare uno step Ancora oltre Voglio provare a installare L'Ubuntu dentro Mint L'Ubuntu è una lista Molto leggera Ce la dovremmo fare Quindi Rifacciamo lo stesso step Di prima Install Game End Virt Manager Ubuntu Scrivo Ubuntu Tanto vabbè Finché sono Ubuntu based È leggermente piccolo Magari facciamo una cosa Schermo intero E anche qua Vabbè tanto Ok no perché Non ci leggevo fisicamente Però c'è Un po' lento Pochino Forse ci metterà un po' Non è lento Non c'è internet Funziona Pinga Sai vedere che il problema Alla fine diventa internet Ah ma Non va proprio qua Qui va No Ah è proprio un problema Alla fonte Ah aspetta Applica Mi innamora Ma là perché pingava Questo devo mettere Forse ok Prossimo arresto del guest Alla facciamo forza Riavvio Mi sa che cosa Aspettare che si riavvia Non si va l'internet ora Non credo Stia andando Se Se no ci proviamo Con virtual box Che posso scaricare In teoria il deb Virtual box Questo bel Tasto download Linux distributions Ubuntu questa qua Abbiamo un bel punto deb Salva file Share Salva Allora devo riattivare lo share Quindi un attimino Andiamo a condividere qua la cosa File system Quindi Per questo Soprattutto slash share Perché si è Soprattutto Share point Fine Stavolta funziona Ci serve Un terminale Perché c'è nulla cosa Mi c'è su slash share Ma perché non vai internet Allora Ok Eccola E' quella la che ho usato Dello scorso video Vabbè Prendiamo Questo E questo Tasto testa copia Incolla Questa è lenta Ci sarà un po' Credo E invece no Mi sbagliavo Ok allora Copiato Quindi devo fare Aggiungi hardware Dispeditivo No No qua Devo fare Aggiungi hardware Dispeditivo Lo sb San disco Slide Ok E spunta qua Quindi annulla Aggiungi hardware Dispeditivo Ecco qua Fine Vabbè Poi devo andare qua Aggiungi hardware Dispeditivo SSB Questo Power Andiamo Ecco Poi abbiamo La chiavetta Allora inizialto Facciamo questo E poi prendiamo la ISO Io continuo a non vederci Quindi continuiamo a fare Un poco di schermi interi Perché io continuo a non vederci Andiamo ad installare VirtualBox Installa pacchetti Ma si può fare qualcosa Su Linux Senza che ci sia bisogno Di internet Vabbè Sapete che c'è Mi sono alto Questo era l'obiettivo Abbiamo usato Linux Mint Dentro boot Dentro PopOS Dentro Endeavor OS Io direi che comunque Già stiamo a un ottimo punto Potremmo riprovarci A andare ancora più in fondo In futuro Detto questo Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così vi sia lasciato Un like Commentate Un video Lo seguite In Twitter Che lo vedremo sempre In descrizione Anche al mio secondo canale E al mio spazio Che tu vanno Come sempre In descrizione Quasi che è per tutto Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao Ciao